Ciao a tutti e ciao a tutti e benvenuti in questo nuovissimo video Oggi siamo in Selak in una nuova CTM che ho portato Porterò sul canale ovviamente In teoria è una cosa molto molto carina Come vedete c'è anche una texture personalizzata Non cambia troppo l'aspetto di Minecraft Ci sono solo degli oggetti particolari Delle spade, delle cose Varie robette insomma Allora ci sono anche i suoni E dovrebbe essere molto molto caruccia E' piano di command block, ci sono tante robe da fare Quindi sinceramente io non so che altro dirvi Se non, che possiamo partire Le porte non le posso aprire Ci sono, vedete, le cose personalizzate Sotto consiglio del creatore della mappa Ho installato Optifine In questo modo possiamo zoomare Le prestazioni dovrebbero essere migliori E tutto quanto Questo è il poster, come vedete c'è un tipo con i baffi Un baffuto Molto baffuto Con una spada di smeraldo Ok Ok, mappa di language craft Ok, ok Possiamo partire direi Start the game Are you sure? E mica dovuto capire la chat Vai Yes Block placed Ok, è successo qualcosa Mi sta spiegando la storia Oh, vabbè Capirai Ok ragazzi Allora, vi spiego un attimo come funziona il tutto Ho skipato tutta la intro Perché era piuttosto lunga E' durata, pfff Tre minuti Quindi sciala Allora, cosa è successo? E' successo che più o meno hanno scoperto Un minerale tipo kriptonite Che è fortissimo E' bellissimo E ti permette di fare tantissime belle cose Però c'è un problema E il problema è il seguente Posso prendere questa spada? No, era un problemino Allora Eeeh Kriptonite Nananana, però E' fighissimo quel materiale Però la gente iniziava a morire Quindi hanno detto Mmm, male Non usamolo più Non basta perché la gente continua a morire Allora decidono di fare cosa? Di Levare tutta la kriptonite Cioè La chiamerò kriptonite anche se non è kriptonite La levano dappertutto Cercano di bonificare l'ambiente con delle piante E' solo che le piante prendono il sopravvento Tutto il mondo cambia aspetto Allora Incaricano me Che sono il personaggio principale della storia Di prendere un materiale Un altro materiale Per costruire una macchina nel tempo E tornare indietro E impedire l'utilizzo di questo Eeeh Di questa kriptonite Eeeh Vado su una barca Su una nave Con un equipaggio di 60 persone Per trovare questo continente Che si chiama Selakin Dove è presente questo materiale Per tornare indietro nel tempo Eeeh E praticamente Eeeh Naufraghiamo Naufraghiamo Eeeh Mi ritrovo sull'isola Qua Bene Penso sia tutto E la nave si chiama Sofia Come potete vedere Allora Posso prendere la spalla Il fatto che io non posso prendere questa spalla Mi turba un attimino Perché Io ho capito anche tutto Però Come faccio A fare cose Se non posso Fare cose Qua c'è del cibo Il che mi piace C'è anche C'è anche un bel Una bella texture pack Ok Clash Allora te rimani lì Quanto ho capito Non potete farmi molto E io In questo momento Oh che bella quella torre Ragazzi Si prospetta una mappa di quelle proprio fighe Fatemelo dire Ora Ho anche 20 cuori Quindi qualcosa mi dice che questa sarà una mappa Piuttosto complicata Spero mi diano delle belle armature Delle belle cose Per ora direi di accingerci Ad andare Verso La luce Perché è notte Penso sia notte di default E Sono curioso di sapere cos'è che posso trovare qua dentro C'è del legno? Non sembrerebbe esserci del legno E qui vicino Beh oddio c'è quell'albero Un po' di legno lo prenderei Vi ricordo che è una CTM ma è comunque Un po' survival Quindi prendere il legno Non posso prendere il legno Non posso prendere il legno Ok la CTM deve ancora iniziare Mi sa Perché sono in adventure mode Salve Salvino vicino Flanders Sono venuto nella caverna Per esplorare un po' questo continente di Selakin Mi piacerebbe tantissimo sapere cosa c'è qua dentro Una bella cesta con una bella spada Una bella armatura O un qualcosa Ok Tu mo chi sei? Dai ho paura non mi hanno dato nulla Ciao Non ti muovere queste sono le guardie Ehm Ciao ci sono i mostri C'è Ci siamo schiantati su Ragazzi ci siamo schiantati 130 Martin Garrix Non so cosa fare Ok Ti porterò dal mio leader Ok non hai niente con te No sono solo un paio di patate Quattro rotte in flash insomma Nulla di che Ehm C'è anche una patata cotta Non l'avevo vista Ok mi porteranno dal loro leader Sono curioso magari ora esce The Rock The Rock che fa just do it Sarebbe bello Allora perché cammini così però Magari una danza tipica del posto Mmm Ah ma qui c'è una società di indigeni Tra virgolette E lo stile è questo Mamma mia che fighe ste case Capito che la texture cambia perché quindi C'è sono più avvantaggiati Però che figata sta roba Sta roba Ok ma posso rubare un po' di roba qui Cavolo mi piacerebbe tantissimo rubare un po' di legno Farmi una spaglina Ammazzare tutte le guardie come se fossimo in Skyrim Anzi ammazzare un pollo come se fossimo in Skyrim Così le guardie mi ammazzano anche a me Così a caso Si ho capito E' lontanuccio questo leader che ci avete voi Nel senso Guarda ma siamo sicuri che C'è gente in questo villaggio Stiamo camminando tipo da due minuti non ho visto nessuno Mi dispiace ma ti vorrei precedere un attimino Perché il tuo leader sarà quella che parte Probabilmente dentro qua Oh c'è una cesta Oh che bello Non so se posso rubarla sta roba ma la rubo lo stesso Cazzo mi sono preso un po' Ah eccolo Perfettura che non si muove Allora aspetta lì Aspetta lì vaffangala Ma lì c'ho cos'altro di bello qui Allora mettiamoci l'armatura Purtroppo non mi ha dato armi per ora Aaaaaah Che pale che non possono per le cose Ehm buongiorno C'è un'altra cesta Ok vabbè io prendo tutto in realtà Comunque è tutta roba comoda Con le pendici posso fare poi Le cose le frecce Cobblestone roba Dove sono finito? Ah ma qua è dove? Vabbè ho fatto un giro Ho usato una scorciatoia Troia Una scorciatoia Capo Ah eccolo il capo Ma cos'è questo? Tomex Tomex invecchiato con la barba Che cosa? Mirlor Oh salve Sei nel nostro villaggio Zerabanna E alla ricerca di qualcosa immagino Si esatto Ho indovinato Ma come? Io sono appena arrivato Io pensavo voi mi voleste ammazzare Ma mi vuole dare una casa? Mi vuole dare l'aiuto del villaggio addirittura E io ho rubato tutto a tutti Questi ora che me lo scoprono Mi ammazzano raga Oh beh Questa è casa mia a quanto pare Il letto non è molto comodo Anche perché è fatto di argilla Già Però ho una casa Mi ha dato anche una bella casa tra l'altro Oh guarda che bella sta scala Molto spessa Qua non ci sta nulla Qua si può Qua si esce Ok Dove sono? We love it Cos'è? È la Nutella No raga c'è la Nutella in Minecraft Che figata Hanno messo la texture della Nutella Probabilmente è la testa di qualcuno Però comunque scialla Allora Dobbiamo andare a trovare Ehm Mish... Che ho? Mica mi ricordo dove sta Sto Mish... A... Faffa Guarda... Aspetta vedo dei nomi C'è qua c'è un magazzino vuoto Ma siete scemi? Almeno qualcosa potevate lasciarmelo Allora o questa è tutta la mia casa del gigante O io bo Uuuu ci sono i soldi Grandi Guarda teniamo in mano la moneta d'oro Così magari qualche figa mi vede Dice ho minchia questo c'è i soldi E allora ci sta Allora Direi che possiamo scendere da qui noi E andare a cercare Il capo Ciao, non sei tu il capo, oddio ma cos'è sta roba, questo è un mercante, ah se ti la rotta in flash mi dai i golden coin, però il golden coin, cioè me lo vendi, no, non, questo compra solo, no ma che figata, bello, ora andiamo a cercare, ma cos'è questo, è il mercato, c'è un mercato sotterraneo, sì, questi vendono roba, sì ma io ho bisogno del tipo per combattere, devo trovare, devo trovare il mirlor, il capo, dov'è il mirlor, è quello con la barba bianca raga, oh ma che bello, c'hanno anche le navi, c'hanno un botto di roba, in questi villaggi, solo che io sto prendendo prendendo ma non so se uscirò tranquillamente a usare tutto, vabbè, continuo a prendere, la gunpowder non mi serve in realtà, ma neanche la sugar cane, la mia domanda è, sto facendo la cosa giusta, non è che devo andare nell'altra direzione, perché andare così lontano, ah ciao tu chi sei, un villager, ah mi vende il pesce, non mi interessa, allora ragazzi, diciamo che io sto viaggiando un po' troppo, dovrei tornare indietro, dovrei decisamente tornare indietro perché non è di qua che troverò il capo, guardia, portamila al capo, non posso manco copirti, beh, forse è una fortuna, qualcosa mi dice che in quella cesta, là in mezzo, c'è qualcosa di comodo, o utile, o robe, uh i coniglietti, ciao, uh finalmente una spada, è una spada di legno, ah la tatsu è carina dai, un po' gricciosa eh, però è carina, ciao, ragazzi non so dove sto andando, qui è tutto buio, ho un po' paura, ho un po' tanta paura, ragazzi è una figata sta mappa, ma non ci sono indicazioni, non so dove andare, qua c'è una caverna coi funghi, ma io boh, ah è lui, qui c'è lui, ma non so, tu chi sei, ciao, gridrun, posso parlarti, non posso parlarti, posso rubarti qualcosa, non posso rubarti niente, mamma mia, aspetta forse di sopra, no, non posso rubarti niente, che palle, ok, questo mi dice che per di qua il capo non lo troviamo, questo è tipo uno stregone e a noi mi interessa, tra l'altro ora è notte, non ho ancora trovato nessuno, vorrei far notare, grandi raga eh, grandi, potevate mettere una freccetta, non so qualcosa, comunque, diciamo, questo mi ha dato una casa gigante, ci sono delle scritte per andare dove sono le scritte, ah, di qua si scende, ok, ciao, ciao amico, chi sei, sei un villager, sei un villager, normalissimo, ci sono dei libri per terra, ma non posso prenderli evidentemente, quindi la domanda persiste, dove devo andare pure notte, si può sapere dove è sto tipo, c'è una cosa però, è il mezzo ragnatele per prenderla, magari c'è qualcosa di bello dentro, oh, ah, una bella V2nex, bravo, della carne, buono, ma anche una pozione, cioè una pozione, una bottiglia d'acqua, questa è comoda, ah, là c'è un tipo, vediamo se è lui, guarda che figara, c'è pure l'acqua sul, sul molo, ciao, tu saresti, nessuno, perfetto, forse è lui, no, quello è un pirata, ma zio, ma no, cosa è successo, no, aspetta, ho paura, questo mi porta in una zona, no, non voglio andare, devo trovare prima il capo, ah, aspetta, forse in quella torrona, capo sei qui, capo, ciao, ma c'è una pesca, ma questa è la casa del pescatore, ma c'è, che dico, non c'è nessuno qui, salve, c'è una cesta, meno il cibo c'è, oh, ok, ora, cioè, a me piace tantissimo, eh, bellissima sta mappa, ma dov'è sto tipo, di qua si va alla piazza della città, probabilmente è di qui, io sto dicendo da mezz'ora, e in tutto questo devo ancora trovare il tipo, io non ho parole, qua c'è un ponte molto precario, allora, in teoria, la piazza e il villaggio dovrebbe essere di qui, combat instructor, ok, combat instructor è di qua per forza, qua dove sono passato prima, ok, raga, mi sa che ho trovato il capo, intanto, guardi, eccolo, eccolo, ah, ciao, ora, il mio struttore mi sta aspettando qui nelle vicinanze, in teoria, c'è una baracca, qua vicina a qualche parte, vabbè, qua ho già rubato tutto, all'andata in teoria, quindi scialla, ma l'idea di qua, no, qua non vedo nessuno, uh, armatura, ok, probabilmente è lui, probabilmente è lui, lo sto guardando da lontano, come ci arrivo là dentro, posso entrare, oddio, perché non posso entrare, devo fare il parkour, eh, spero di no, ok, scherzavo, c'è la scala, andiamo dall'istruttore, buongiorno istruttore, dimmi che sei l'istruttore, perché un occhio marrone e uno blu, sono capelli, sono capelli, non è lui l'istruttore, però, non è lui l'istruttore, mi avrebbe detto qualcosa, questa è la casa di Gary, ma chi è Gary, magari devo seguire il fiume, non lo so, mica, sai, mi sta avvenendo proprio voglia, ma proprio una bella voglia di installarmi una di quelle mappe, le mini mappe, praticamente, qua, nulla, mi sto perdendo di nuovo, mi sa, eh, cosa è sto posto, Casern Barak, Mater Dam, ah, Combat Instructor, vai, vai, sei tu? Grande, grande, sì, sono talichi io, ecco la tua spada, ok, ah, ho metto una spada bella, di pietra, bellina, ok, cioè, tutto questo casino per prendere una spada di pietra, che praticamente ha uno in più della spada che ho già, grazie, eh, grazie, lo apprezzo, davvero, lo apprezzo, quindi lo devo tornare indietro, e di nuovo dal capo, ok, uh, qua è pieno di cartelli, cosa c'è scritto? nulla, a parte tutto ragazzi, mi sa che lo farò sul serio, tanto, eh, è da giocare in 1.8.8 questa mappa, quindi se installo qualche modo o cosa non mi cambia nulla, eh, però, è 40 volte più comodo, cioè, è tipo Skyrim, questa mappa, non mi dice bene dove andare, cioè, neanche in Skyrim mi dice dove andare, qua no, te lo devi trovare da solo, la cosa positiva è che mi imparerò a memoria la mappa, però, insomma, è il capo, ci sono, ok, praticamente dobbiamo andare nel villaggio che ci porta, eh, poi alla prima zona da affrontare, il villaggio si chiama Kelen, e questo passaggio alla nostra, alla sinistra del guarda del capo, dovrebbe portare lì, questi sono casi ancora di questo villaggio, eh, dobbiamo arrivare a quest'altro posto, perfetto, ragazzi, ma per questo primo video, io vi dico che è tutto, mi chiesto tantissimo per la visione, vi ricordo di lasciare mi piace, se vi è piaciuto questo video, di iscrivervi al canale, se ancora non l'avete fatto, e seguimi su Twitter, Instagram, Facebook, e ovunque voi vogliate, e io vi saluto, ciao, turu, turu, tutti! Ciao!